Con la risalita dei contagi, il Covid torna a far parlare di sé. Dai primi di giugno la pandemia sta riguadagnando terreno dopo una prolungata fase di calo. Abbiamo chiesto a Bruno Cacopardo, direttore dell'unità di malattie infettive dell'ospedale Garibaldi di Catania, cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane. La situazione siciliana è in accordo con quanto sta avvenendo in altre parti, non solo del territorio nazionale, ma direi del territorio europeo. C'è un incremento progressivo del numero di casi di infezione da coronavirus per un aumento della circolazione del virione. E questo aumento della circolazione è attribuibile a una somma di eventi, che sono la maggiore infettività del ceppo variante che sta girando in questo momento, che è il PA5, e il fatto che l'immunità che abbiamo evocato attraverso la vaccinazione, attraverso l'infezione con i precedenti ceppi, non è del tutto in grado di intercettare e di rallentare la circolazione di questo virione. La prevenzione e i vaccini restano ancora l'unica arma realmente efficace per evitare l'infezione o la reinfezione. Anche se non obbligatorio, l'uso delle mascherine nei luoghi chiusi è consigliato, così come l'applicazione dei principi base di igiene. Soltanto ripristinando quegli strumenti di contenimento che avevamo adottato e che abbiamo un po' messo a margine, possiamo rallentare la circolazione massiccia del virus. E mi riferisco al rispetto di alcune regole di distanziamento, alcune regole di lavaggio o disinfezione delle mani, diciamo ripetuto e protratto, l'utilizzo della mascherina in consessi chiusi o ravvicinati, certamente non all'aperto. Insomma, il rispetto di una serie di regole che noi fino a qualche tempo fa rispettavamo e che ora abbiamo messo da parte in diverse situazioni. Il virus non è efficace nel raggiungere il polmone profondo come lo era la variante Delta, si limita alle alte vie aeree, dà una sintomatologia certamente fastidiosa, dominata da una faringite, mal di gola, esternutazioni, rinorrea, colpi di toste, in alzamento della febbre, mal di testa, ma che però si risolvono piuttosto rapidamente, che quasi mai coinvolgono il polmone profondo, le basse vie aeree. Non c'è motivo di drammatizzare quanto sta avvenendo. Sulla quarta dose del vaccino è arrivato il via libera per gli over 60. Quello che mi aspetto io dalla vaccinazione è che si esegua un ciclo di vaccinazioni con antigeni diversi mirati e adattati al nuovo ceppo variante del quale stiamo assistendo in questo momento alla massiccia circolazione.